Il tema delle molestie alla donata degli alpini a Rimini, segnalati dalle attiviste di Non Una Di Meno, che parlano di tantissime segnalazioni con la prima denuncia presentata effettivamente, riaccende l'attenzione sull'argomento arrivato anche in Parlamento e spunta una macchia anche su quella dell'Aquila nel 2015. In città a fine mese è prevista infatti l'udienza in appello dopo la condanna in primo grado nei confronti di due imputati accusati di violenza sessuale di gruppo su una ragazza che all'epoca era minorenne. I due sono un 35 anni di raggio Emilia e un venditore ambulante, suo cotaneo, che avrebbero condotto la ragazza in un luogo isolato approfittandosi di lei. Il Tribunale dell'Aquila li ha ritenuti colpevoli, infliggendo la pena di quattro anni di reclusione col pagamento delle spese processuali, sentenza che ora al vaglio dei giudici della Corte d'Appello, il 31 maggio, è fissata l'udienza per il secondo grado di giudizio. Il Centro Antiviolenza, associazione Donatella Tellini, è stato ammesso come parte civile a fianco della persona offesa, con l'avvocato Simona Giannangeli, legale della vittima in prima linea, che ribadisce l'importanza di denunciare fatti che altrimenti resterebbero nel sommerso, per paura di affrontare il lungo e complesso percorso. Io intendo ribadire una cosa molto semplice, in questo caso si parla di adunate degli alpini, ma si potrebbe parlare di qualunque altra situazione. Quando tanti uomini evidentemente si riuniscono, cresce per noi donne il pericolo di essere esposte ad abusi, violenze e molestie. Tutto questo è l'ennesima riprova che in questo Paese c'è un dato strutturale di violenza nei nostri confronti. C'è un dato culturale secondo il quale alla fine durante una adunata per esempio potrebbe essere lecito essere esposte a pacche sul sedere, apprezzamenti di ogni tipo, senza ricordare che tutto questo, se non c'è il consenso di ognuna di noi, costituisce reato. Questi episodi a Rimini, come è successo all'Aquila e come credo succederà ancora ovunque, non ha tanto a che fare col fatto che ci sia stato un raduno degli alpini piuttosto che di altri tipi di uomini. Ha a che fare con, ripeto, un dato culturale per cui in questo Paese i corpi di noi donne sono più o meno territori liberi, territori da attraversare ed evidentemente da saccheggiare. Se non si sconfigge, se non si riparte da questo tipo di battaglia, io credo che assisteremo purtroppo ad altri episodi di questo tipo.